La leucemia meloide cronica è un esempio molto particolare di malattia ematologica, in quanto ha all'interno delle cellule malate un gene alterato molto caratteristico e anche molto specifico. Grazie a questa molecola genetica alterata noi riusciamo sia a diagnosticare in modo molto preciso la leucemia meloide cronica, attraverso indagini di citogenetica e di biologia molecolare, che proprio seguire l'andamento della malattia durante il trattamento. In particolare i farmaci che impieghiamo ormai da circa 15 anni, gli inibitori delle tirosine ochinasi, che sono iniziati con il capostipite e i matini e si sono aggiunti molto più sofisticati inibitori nel corso degli anni, sono proprio in grado di inibire la molecola genetica alterata eliminando praticamente la cellula leucemica o abbassandola perlomeno a dei livelli veramente infinitesimi. E noi siamo poi in grado di misurare questi livelli molto piccoli di malattia attraverso indagini di biologia molecolare, che sono il tradugnon tra il medico e il biologo, in quanto in questa malattia il ruolo anche del laboratorio è fondamentale, proprio perché i risultati così strepitosi ottenuti con i farmaci ci obbligano tra virgolette a seguire l'andamento della malattia solo attraverso indagini di biologia molecolare molto sofisticate che ci permettono di seguire l'andamento e anche di scegliere poi il giusto trattamento per il paziente. Tutti quelli che ho nominato sono trattamenti di medicina di precisione, perché la medicina di precisione nasce proprio dal fatto che ci sia un target, un bersaglio e quindi sono farmaci, gli inibitori di tirosinochinase, prototipi di tutta la medicina di precisione che poi è seguita a questi farmaci. Diciamo che noi abbiamo fatto anche un passo in avanti ora, cioè nonostante questi risultati molto confortanti, molto strepitosi, sappiamo comunque che la cellula primordiale che ha dato origine alla malattia, la cellula staminale, è ancora dormiente nel corpo del paziente e può svegliarsi qualora noi sospendiamo per esempio i farmaci. Stiamo mettendo a punto proprio in Italia delle metodiche per andare a quantizzare anche queste cellule primordiali, anche le cellule staminali, proprio per riuscire a identificare anche qui attraverso indagini di ultra precisione, perché addirittura andiamo a cercare le cellule primordiali della malattia, identificare quei pazienti che possono anche sospendere il farmaco e non avere poi la ripresa della malattia una volta sospeso. La chemioterapia in questa malattia non esiste praticamente più. Questi farmaci, tutti i farmaci diciamo che si sono sviluppati, hanno delle piccole loro caratteristiche di tossicità, ma sono più che tossicità direi dei piccoli effetti collaterali molto sopportabili. In realtà colpendo esclusivamente la cellula leucemica va da sé che non fanno danni ad altre cellule, quindi sono molto comodi, sono per bocca, si possono veramente assumere tutta una vita. Ovviamente stiamo cercando il modo di arrivare anche a non doverli assumere perché possiamo in modo tranquillo sospenderli ai pazienti che sono effettivamente guariti.